Dal desiderio nasce l'idea e poi il progetto, la realizzazione, la soddisfazione della tua casa, proprio come la volevi. Dal 1995, Roveri Costruzioni fa tutto questo, con competenza, esperienza, serietà, qualità e grandi offerte, come il tuo nuovo bagno, rifatto in 7 giorni a soli 4.500 euro. Roveri Costruzioni, sede Showroom a San Lazzaro di Savena, località Cicogna, Vialdo Moro 4B. Chiama per un preventivo lo 051 62 57 192, oppure vai su rovericostruzioni.com, anche su Facebook.